Perchè c'ho il vestito di una ne... In che schien mi vedete voi? Io sono una ne... Ah io ti vedo normale. Ma come mi vedi normale? Quanti pasticchi hai preso oggi, Scar? Nessuna! Quello è il problem. Puoi chiudere la porta che ho chiesto di non far casino per piacere? Poi si ricorda di vivere in Matendopoli. Potete smettere di cuocere l'hashish lì fuori? Allora, che offre la map oggi? Nessuno. Nessuno. Come nessuno? Nessuno. Oggi nessun product placement. La mappa è già pronta qua. Ma che significa? Perché siamo su Fortnite, allora? Boh, appunto, me lo sto chiedendo anch'io. Raga, non ci fanno più lavorare. Comunque, se volete c'è il link per fare gli abbonamenti qua sotto. Oggi niente del product placement, ce lo pagate voi il video, dai. Ah, offro i nostri iscritti la mappa Rick e Morty Escape Room. Oh, aspetta, ma è una mappa di Rick e Morty? Sì. Sì, allora, io l'ho provata e è difficilissima. Come è difficilissima. Oh god, sono incastrato dentro Scud. Mi sta esplodendo il computer, porca merda. Oddio, ho detto porca merda. Volevo dire... Abbiamo avuto Scud di evitare un po' le bestemmie e le parolazze. Adesso è tipo un santo. Altrimenti il video diventa tutta una censura. Eh, sì. Tipo così. Sono caduto, boh! Oh no, ma questa musica ha il cop... Ah, una cover. Questa ha il copyright. Mmm, cover. Free copyright. Sì, proprio così, cazzo. Ok, quando si stoppa la musica? 10 secondi inizio a urlare, eh. È un po' alta. Non pensavo si potessero mettere le musiche personalizzate nelle mappe. Eh, ma l'avranno fatta quei gettoni. Come su Minecraft. Eh, con i blocchi. Esatto. Raga, io ho già visto la prima parte, quindi... Bravo, ecco perché l'hai scelta. Si spoilerà, eh. Volevo capire come fosse la mappa, se bella o brutta. In mezzo al video. Spawn, come fai ad essere già avanti? Eh, sono molto forte. Sono fortissimo. Oh, raga, entrate nel cetriolo. Bravi! Ma, what? What the fuck? Ha centrato solo lui, perché mi ha trasportato anche me? Ma non lo so. Ma cos'è sta mappa? Allora, Bert, la so che tu con noi ne hai registrato perché ti avevamo sempre evitato come una peste, ma questo è un escape room. Olè. E fin qua. Cosa sono sti cubotti? Eh, checkpoint, immagina. Guardalo. Sono tantissimi. Guardalo come apprende e cresce in fretta. È capacitivo, eh. Vede e impara. Incredibile. Ma quindi? Boh, cos'è? Eh, quindi bisogna vedere come andare avanti. Ah, bisogna trovare un buco per andare via, ok. È dritto, raga. C'è la stazionata qua la salta e vado dritto. No, non posso saltare che c'è un muro invisibile. Non puoi andare dritto, attenzione. Oh, qui, 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 sì. È pieno di muro invisibili. Che cazzo? No, 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 non si può. This is ridiculous. Penso sia il titolo di una puntata di Rick e Morti, comunque. No, non penso. Io l'ho visto tutto e non c'era il nome così. Forse perché i titoli erano in italiano. Era in italiano. Non è vero. Guarda tutto in lingua originale. Ma quindi il gioco è... cioè, dobbiamo trovare solo un buco. Oh, c'è una papera che vola. Sparare la papera che vola, hai visto? Ah, no, sono corvi. Tu al laghetto davi da mangiare i corvi, secondo me. Sì, il cianuro. Il cianuro? Buono! Oh, io mi sono rotto il cazzo. Non c'è modo da andar via. Oh, oh. Ma quindi start, abbandona la partita, torna al centro, giusto? Sì. Raga, ho visto un minuto della mappa. Vi sto dando degli indizi per rendere il video divertente. Cosa vuol dire? Grazie. Eh, eh? Eh, c'è un foro. Ah, XD, è come il salto all'indietro, dai, su. Oh, Bertra, porco. Che cazzo vuoi? Eh, ma lui è camper che abusa. Raga, è bellissimo qui dentro, mamma mia. Sono delle lucine stroboscopiche. Oh, ma, ragazzi, c'è il party. Meta abuser di merda, levati. Time travel staff. Questo è il laboratorio. Uh. Eh sì, è il garage. Il laboratorio di Dexter. Ma qua è un'altra cosa. Eh, eh, sono... Ma che cazzo è successo? Ok. Direi che qui non ci deve andare, ci sono le trappole. È così. Scalva, vai dentro. Eh, eh, eh. Buttalo dentro. Non ne vedo le trappole. Eh, allora vai, tranquillo. Eh, dove stanno? Eh, orco... Ah, ma si muore e basta. Sì, cioè, esplodi. Ah, ho capito, ho trovato il buco. Mio. Forse. Oh, shit. Eh, no. Eh, no. Eh, no. Mi sposti. Attenzione, stallo. Io non mi sposto, eh. C'ho l'autorun, non posso andare via, guarda. Eh, no. Eh, io ho rotto il joypad. Vedi un po'. Mi faccio una bibita e aspetto via. Ah, io vado in bagno, eh. Ci metto anche gli venti minuti. Ma ci vediamo dopo, allora, eh. Vediamo chi cede per primo. Olè! Eh, porco... Ti sposti anche tu? Non mi fai saltare! È una guerra. Mi raccomando, ragazzi, non bestemmiate in sto video. Porco... Io ho aperto una discoteca, comunque. Ma ti... Ti vedo. Trasparente. Quindi dove bisogna andare? Ho trovato l'uscita. Oh, ma si entra nei quadri come Super Mario. Siamo in un altro posto, mi sa. Ma è la stessa uscita. Ma sei stupido. È la stessa uscita. Allora, ragazzi, ci dividiamo, ognuno ci lancia in un'altra finestra e ne troviamo una giusta. Vieni, Bertra, dai, tu che sei sfigato, vieni con me. Oh, c'è quello sano, che forte. Vai, lanciati nella finestra Rickdiculus. Non ci si passa palesemente. Non ci si entra, infatti. E di qua, magari? Ce l'ho. Non è vero. Ce l'ho? Non è vero. Shalom. C'è un ram. E il problema è che... Cazzo, ma ti ho visto entrare, non c'entravi. Che cazzo vuol dire? Sì, è vero. Anch'io l'ho visto, era lì che non entrava. Era qua. Ma che cazzo vuol dire? Ragazzi, sono i piccioni in casa. Chiamate gli animalisti. Ma cosa vuol dire? Ma come era? Ma non mi entrava prima me. Scusa. Ciao. Beh, di qua, presumo, no? Qua dove? Nel quadro. E vedi che si entra nei quadri come supermalario? Nessuno esiste per un motivo. Nessuno appartiene a nessun posto. Tutti moriranno. Vienite a guardare la tv. Grazie Google traduttore, però ha tirato la mano. Guarda che si stacca se te la tiri, eh. Ma si va ancora avanti? Eh sì. Ma siamo usciti da dietro. Oddio, qui c'è un buco, raga. Oh shit, sono... Interessante. È una foiba. È una foiba. Ma che cazzo? Come sei passato da qui? Da qui c'è un buco. Olè. Allora l'ho sbagliato. Entrate, qui il lavoro vi renderà liberi. Passate pure. No, 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 no. Qui, ragazzi, il video diventa giallo se andate nel camino. Ma no, ma cosa dici? È come con Harry Potter. Ah, ok. Allora devi divulgare diagonale, sennò è demonetizzabile. Diagonale... Boh, 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 boh. Eh! Trappole. No, ok, perfetto. Che trappole? Andiamo avanti senza parlare trappole, raga. Mi è cascato Andrea. Uh, si sopravvive. Un'altra foiba, incredibile. I matrimoni sono praticamente funerali con le torte. Ok. Mi piace questa frase. Ora mangiamo la torta. Ma, ma ragazzi, ma lasciatemi non anche a me. No, lascio niente. Boh, la gente è golosa. C'è un buco qua sopra. Aspetta, ma come cazzo si arriva? Eh! Come ci si arriva? Basterà andare dritti, dai, ragazzi. No, c'è un buco lì. No, 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 no. Drittissimo, aria palese. C'è scritto proprio. È impossibile arrivarci qua, comunque. Guarda, c'è Rick Cetriolo. C'è un fungo. Pertra, non lo stai facendo tu il video. Devi stare fermo, non me ne frega niente che tu prendi i funghi e fai le cose del video. Mangiati pop corn, stupido. Incazzato, ma di merda. Questo me lo mangio io. Succhiacazzi. Ah minchia, ma stiamo giocando con i bambini di otto anni, vedono la torta e ce la mangiano. Ma dai, ma svegliamoci. Che trigger, madonna. Vuoi andare avanti tu? Dai, vai avanti tu allora, vai avanti tu. Cosa? Bravo, bravo, bravo. Sono fermo qua. Mi sono mosso, non mi pare. Ma siamo finiti a Venezia? Vedete che ogni tanto flasha roba azzurra. Sì, 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 è la speed quella lì, è la speed coca, fa uguale. Non l'hai mai provata. Non è il fungo che ci siamo mangiati. Cos'è sta roba? A me si illuminano sti pali. Anche a voi? Sì, anche a me. Magari possiamo aprirli. Oh raga, guarda c'è il triallo Rick. Pico Rick! Bisogna fargli vedere i riferimenti di Rick e Morti, altrimenti come si fa fare il clickbait. Eh, è vero. Hai ragione. La scena più bella di Pico Rick è quando prende il top o in due lo strappa, figa. Mmm. Ah, guarda qua c'è una radice, si scavalca il cancello. Sto a vedere. Che vuol dire? Dici? E poi... Uh, attenzione. Mamma mia. Cioè, studiatissimo. 115 di cui? E mo? Adesso salti sopra qua e torni indietro. Qui ci sarà qualche... Eh! Eh! Non vedo niente! Cazzo! Vai avanti! Eh levati Bertra! Eh! Sono incastrato! C'è un tasto! C'è un sasso viola! Aspetta, guarda sopra, guarda sopra! C'è una roba strana! Oddio, un timer! Un timer? 20CH! OCH02! Sono due franchi svizzeri? Andre, prova a fargli qualcosa. Oddio! Oddio! Cos'è che è successo però? L'ho attivato! Secondo me ha spaccato le sbarre che c'erano nel tubo. Sì, sì, è probabile. Però se andiamo tutti insieme... Sembriamo delle scimmie, cazzo! Uh! Uh! Oh yes! Oh sì! Io vado in meglio! Non puoi andare in meglio! Sì Bertra! Io vado a destra! Eh! Ragnatele! Io vado a sinistra! Io vado con Spawn! Io vado a destra con Andrea! Fascisti! Comunisti di merda! Ma no, ma qui c'è Oddio il labirinto! Vabbè, io vado ancora dritto! Mi sa che aveva ragione loro, Andre! Noi siamo finiti in gabbia, però qua vedo altre sbarre! Ci sarà un altro pulsantone! Dobbiamo tornare indietro Spawn! Forse ho trovato qualcosa! Oh 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 oh! Ah sì? Ehm... Cos'hai visto Scud? Oh! Uh! Trovata! Ho trovato il tastino per attivare le sbarre! Ah! Ma eravamo a fianco! Ciao! No! Shit! Non eravamo a fianco! Come che si fa a passare? Eh! Abbiamo sbagliato strada! Torniamo tutto indietro e poi andiamo a destra! Poi da qualche parte andremo! Oh no! Uh! Dai che palle! Un labirinto! Vedi che la destra era sempre la cosa giusta! Cioè nel senso! Allora! Ora se Berta si leva dal cazzo! Possiamo passare avanti! Non è lì l'entrata! Mi sono messo sul muro! Venite! Venite! Uh! Sberilluccica! Vai vai! Ma se Zappa escono zombie? Escono cristalli di cheta! Raga! Mi sa che ho trovato qualcosa io! Su quella roccetta viola! Ah! Zoccolo di gnu? Prego! Prego! Facciate pure i parkour! Bravissimi! Di qua! Ma c'è anche una dall'altro lato però! Di qua! Oh! Seguitemi! Pezzi di merda! Ma stiamo valutando la zona! Non magredire verbalmente! Valutiamo tutte le opzioni! Secondo me abbiamo... E infatti mi sembrava una cagata! Vai via! Scappo! Turn back! Oh no! Parkour! Parkour! Perché c'è un albero qua? Che schifo! Io non mi fido! Io sto dietro! Raga senza paura! Che sali e paura mai avuti eh? Paura is gay? Oh no! Checkpoint! Checkpoint! A me non l'ha preso! Oh aiuto! Angry for apples! Mangiamoci le mele! Berta adesso puoi mangiare una mela! Grazie badrone! Ma sono cocomeri! Non sono mele queste! Ma secondo me sta roba qui tipo la maledizione di Biancaneve e ci fotte proprio la strega adesso! Chi è che deve poi limonarsi tutti? Che Biancaneve se te ne ne hai visto tu? Vediamo quanto conosci veramente bene Rick e Morty! Oh io sono studiatissimo! Vai 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 vai! Facciamo tipo quiz! Oddio! Allora question! Da che dimensione proviene Rick che conosciamo? C137! Eh C137! Solo che com'è che si fa? Si fa nella lava? Si può? Ah facile! Sì! 137 quindi? Sì sì sì! C137! The questions! Cosa vuol dire wabalaba dub dub? Facile! I'm in great pain! Uh bravi! In italiano? Sto soffrendo tantissimo! Cosa preferirebbero giocare Rick e Morty invece che aiutare il presidente? Pocket Morty? Minecraft! Si era Minecraft è vero! Cazzo se era Minecraft! Ma che ma qui in 420... Oddio il ghiaccio! No che odio il ghiaccio! Rick è ricercato dal Presidente degli Stati Uniti, Federazione Intergalattica e il Consiglio dei Rick! Da tutti! Da tutti e tre sì! Quindi andiamo a caso! Io vado nel Consiglio dei Rick! Io vado nel Consiglio Intergalattico! Ragazzi ma anche io! Cosa accambi? No! Sono morto! Vedi che ero il Consiglio Intergalattico? Facile! Ma tutti lo ricercano Rick! Eh lo so! Però... Secondo me questa mappa non è aggiornata con le ultime stagioni! Qual è il nome della canzone suonata all'inizio di questa mappa? Ah! Beh! Facile! Facilissimo! Vai camper! Non lo so! Io la metto come soundboard di SCAD! Musica di Rick e Morty Sad Music! Eh Goodbye Moonman! Penso sì! Secondo me sì! Io c'entro Rick! No! No! Sarà dai Ford e da Magic Coda dai! Oddio mi sembra un nome un po' lungo! Sì è questa! È questa! Ok! Olè! Facile! Aspettiamo Spawn che è 25 km indietro! Ma che poi scusa non si portava a stare dritto! Eh no ma ti ammazza! Ci hai provato! Oh! Si prosegue di qua? Oh! Mi sparato indietro! Oddio! Oh! Vabbè! Sono tornato indietro! Olè! Guarda! Mmmmm! Basta saltare! Gioco! Oddio! No! Eh Bertra va sempre avanti raga! Ma cosa vado avanti al ferro? No! Ma per Dio! Non ce la faccio! Sono inabile proprio! Perché mentre saltate non dovete toccare il muro! Eh lo so! Ma non me lo dire Giovene! Oh! Sei ancora giù! Ma quanto pare non ci arrivi! Olè! No! Ce l'abbiamo fatta? Eh! Aiuto! Sono in un loop! Aiuto! Oh ma smetti di saltare! Non mi si... Ok! Allora! Perché mi ha spinto? Nessuno! Ma sono vivo! Ah! Ah ok! Ascoltatemi! Da qui riesco a capire cosa dovete fare! Ok! Quello che ha fatto Bertra! Lancio lungo? Quasi! Dovete saltare e prendervi di schiena quel cubo lì! Oh gazzo! L'unico che l'ha fatto è Spawn! A caso! Ho paura di avercel'ha fatta per sbaglio! E' la sua storia di Youtube! Come fa? L'averemo di ogni scritto tipo a caso! A caso! Ecco Bertra non te ne ce la fa adesso! Mi faccio di speed! Bravo! Bravo Andre! No! Dio! Ha dei problemi evidenti nel fare... Cadre allora non devi toccare il muro! E so che non lo devo toccare ma non ce la faccio! Ma quanto durerà ancora sta mappa? Perché... Boh! Vedo tre ore e 26 di tempo! Eh boh! Magari qualcuno non sa bene i quid di ricche e morti! No! Mi sono incastrato! Oh loop! Aiuto! No Scad devi prendere il muro dietro di te! Eh non riesco a fermarmi! Non riesco! Cheat tossici qualunque! Vai vai vai! Ora non puoi sbagliare! No ma sei stupido! What? Ah coglioni! Ma dai ma cos'è il muro invisibile! Oh aspetta! Oh shit! Dai Scad non possiamo aspettare! Sono tre ore e 25! Oh arrivo! Madonna manco il salto iniziale riesce a fare! Oh Bertrandio! Vengo a casa tua e ti spacco la testa! Porca m***a! Ti butto giù quella casa del cazzo in quel Milano di merda! Oggi Scad è triggeratissimo dalla vita! Guarda che non mi si scastra! Cioè come faccio? Dai fermi! Smettila di muoverti! Ma ci sono delle zone in cui non si salta! Vai un pochino avanti! Se stai immobile si ferma dopo un po'! Ok! Ma non è vero dai! Ci sono delle zone in cui non si salta e le zone in cui si salta! Non è difficile! Premi di nuovo salto mentre riscendi! Sto facendo di tutto aiuto! Andiamo a fare altri F4! Scad ma sei scemo! Guarda! Oh ma sei fermo! Nooo! Oh perfetto perfetto perfetto! Nooo! Ma perché vai in avanti? Devi andare indietro! Non vado avanti io e lui mi butta avanti! Sto piangendo! Ho capito la meccanica come si fa! Non riesco a muoverlo! Incredibile! Non vado su Instagram io! Io sono già su Instagram! Tranquillo! Facciamoci un po' i cazzi degli altri! Hai visto Gabrielly che ha scoppiato lo schermo del computer? Non lo schermo! La plancia di vetro di lato! Riccardo noia! Adesso risalto uguale! Risalto uguale e vai contro il muro! Quello lì ecco! Braaie! Nooo! Nooo! Di poco! Allora Scati abbiamo detto che non puoi dire blasfemie! Però adesso se vuoi puoi dirle! Sei giustificato in questo momento! Adesso sei giustificato! Adesso aspetta che sbaglio ancora! Se muore ancora una volta vado per supporto morale a rifarlo anche io! No no così non ce la puoi fare! Dio! Hai fatto di merda! Dio! Dio! Risalta ancora! Oh! No! No! No 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 no! È perché ero troppo avanti! Non riesco a pilotare il porco di personaggio! Oh! Era 3 ore e 25! Quattro minuti fa! Grande eh! Non sai contare! Quattro minuti che siamo fermi! Ok! Questa è una volta buona! Segnate! Segnate! Guarda! Guarda! Gesù che mi guarda dall'alto! Olè! Oh! Sì! Bravo! Mamma mia! Bertra! Magari domani ti svegli freddo! Oddio! Cazzo c'entro io se sei disabile! Raga non è una porta questa! Ah! Fuck! È una finestra! Ero convinto! Ah! Qua 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 qua! Oh! Ok! Eh! Adesso! Raga! C'è un buco qui! C'è un buco! C'è un buco! C'è un buco! No! Italiano medio! C'è un buco ci si ficca! Oh! Figo! Il calcio! Il palone! Eric e Morty! Ragazzi se vedete camper e Bertra nella stessa stanza dite figa! Li triggerate e cominciano a partire! Oh! Oh! Ah! Parkour! Attenzione! Sono uno speleologo io! Oh! Qua c'è un buco! No! Non può essere! C'è un buco! Bello il buco! Ci metto il pisello! Nel motore! Col palone! Ah! Sono in un buco! Eh! Sono stuccato ragazzi! Bella! Ciao! Porca troia! No! Accovacciati o rigenerati! Ok! E io vado su di qua eh! Ma come hai fatto salire? Eh! Ho saltato! Siamo dei ritardati! Come hai fatto? Ho sbagliato il salto! Oddio! Ho camminato! Molto semplicemente! Poi vado qua! Vado qua! So c'è un dio! Sono fortissimo! Bello! Bello Scud! Visto! Questa è grazie alle lasagne! Ah! C'è un buco qui! Scud è sotto! Ah si! Aha! Ma io follow Wokan pure eh! Buona fortuna! Ah! Tra l'altro c'era una sola... La ragazza ma c'era una scorciazione di qua! Guarda! Guarda! È di qua il parkour! Dobbiamo andare al piano superiore! È qua! Mmm! Dio c***o! Andrea! Aveva anche ragione! C'è CH04! Eh io l'ho visto! Il problema è che... Sì 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 sì! Ok! Ho avuto il checkpoint! Ho attivato la bomba! Non so cosa faccia questa cosa! La bomba! Ah! Bertra! Se urli... È solo fastidio! Non so! Però era una roba molto... Involontaria! Fai solo... Comodo! Bravo! Ma perfetto! Da qui a lì? Sì! Oh s**t! Eh vabbè! Mi sono bloccate! Body block! No raga! Non fa più ridere sta roba! Andiamo avanti! Era un mese che non facevo body block! Dai! Raga secondo me abbiamo aperto la porta con quel coso e l'abbiamo sbloccata! Probabile! Ma raga ma quante ne so! Ma quante ne so! Oh! Eh non sono abbastanza studiato con il traduttore! Volete che torni indietro da tre settimane fa quando eri ancora vivo? Cut nel senso cinematografico di tagliare a tre settimane fa! Quante ne so signori un applauso a Bardak che davvero ne sa tante! Aspettate devo rispondere! Sì pronto! È il colloquio di lavoro Scud? Oh raga Scud è stato un lavoro vero e forse non lavora più con noi! Davvero? Perché lavorava con noi! Beh Reta no però vabbè! Dove cazzo stiamo andando? Oddio Luci! Ho male agli occhi! Ho male agli occhi! Ok! I'm back! Allora dobbiamo trovare l'interruttore nascosto per attivare il bottone! Wow! Sembra una mappa di Minecraft! Allora tornate un interruttore raghi! Un interruttore! Oh 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 oh! Oh oh oh! Ma cosa fai il forno crematorio? Eh sì! Banana flambè! Ah guardate qua sopra c'è un buco tipo! Vedete che se saltate in alto vedete che non è tutto nero! Ah c'è un buco! Super bello! Sai cosa? Io penso che o nei muri neri ci sono delle mini entratine da spettarci di schiena come i vecchi parkour! Però se sei abile con il mouse lo puoi fare in speedrun! Oh raga di qua! Di qua! Seguitemi! Seguitemi! Ah! Hai trovato il pulsante nascosto! Ah! Allora ti fa saltare! Eh beh ditelo prima! Vabbè allora! Oh yeah! Adesso il pulsantino fa saltare! Salta su! Ma siamo già tutti su? Ah! Ma chi sono tu? Ah! Oh è hardware arrivare fin là in fondo eh! Se volete ci provo ma! Io ci provo! Nooo! Che perfetto! L'ho saltato! Oh vedete ce n'è arrivato! Ah! Bello camper! Bello camper! Bello camper! Bello camper! Olè! Ce l'abbiamo! Olè! Pum! Body block! Ma che facile! Prego prego prego! Ah di qua dritto! Guarda che cade eh! Non devi farti i body block sul muro? Ok bravo! Si si raga è tutto su! Oddio! Questo è pericoloso eh! E poi? Poi autofellazio! Porco d'un d***o! Pronto! 10 secondi che porto giù le chiavi! Dio! Porco d***o! 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 Non ci vede! L'ho sentito pure xd nascondiamoci così non ci vede! E dove siamo? E dove siamo? Dove stiamo? Eh siete lì! Elena! Dove stiamo? È caduto di sotto! Oh no! È uscito! Aspettiamo un'altra mezz'ora! Vabbè dai! Sarà l'ultima parte qua! Chi se ne frega Bertra! Buttati nella lava Bertra! Ok! È stato un piacere! Che poi non mi ricordo neanche come cazzo si fa! Oddio! Uh! Uh! Eh vedi! Time for playing è finita! Beh! Ce l'ho fatta! Yeee! Ma è tipo la prima cosa che finiamo di Fortnite quasi! Quasi! Può essere! Carina dai la mappa! Non male! Raga spero che il video vi sia piaciuto! E ringraziamo! Oh no! Non possiamo ringraziare nessuno sponsor! Eh vabbè! Ciao ragazzi! Ciao! Abbonatevi! Abbonatevi!